Sarà un'idea balzana che mi è venuta per la raccolta delle fotografie, ma quando ero giovane facevo il dilettante fotografo e però usavo la macchina con la pellicola. Quando sono uscite le macchine digitali ho perso la voglia di fare le fotografie, perché l'attesa dello sviluppo, non essendo io lo sviluppatore, era veramente una cosa che attraeva, fra una settimana vedrò le mie fotografie. Con la digitale lo vedeva subito e ho perso la passione. Nel 1999-2000 c'è stata l'occasione di una collezione del lucchetti e lì mi è venuta in mente l'idea della raccolta e lì è nata l'idea di raccogliere. Poi dopo, logicamente parlando con dei tecnici, hanno sottolineato la necessità di raccogliarle, però poi venire a conservarle. E lì con il professor Gelfi allora è nata l'idea di fare il museo della fotografia. La creazione del museo della fotografia è la realizzazione di un sogno che per Bergamo è nell'aria da circa 50 anni. Primo perché Bergamo negli anni 60-70 è stato il centro della fotografia italiana con fotografi particolarmente bravi da Pepi Merisio a molti altri che hanno documentato la vita della città, delle campagne e del resto d'Italia. Il secondo punto è che dedicandosi la Fondazione Bergamo nella storia alla storia, la storia futura si realizzerà attraverso i documenti fotografici. Noi non lasciamo più scritti, non lasciamo più lettere, lasciamo fotografie e queste fotografie saranno la base per lo studio della storia nel futuro. Il nuovo museo della fotografia nasce grazie ad un dono, il dono della Fondazione Sestini che per prima ha cominciato a recuperare in giro i più importanti fondi fotografici e a depositarli qui al Chiostro di San Francesco per poi darci anche gli strumenti, i mezzi economici per poter realizzare questo archivio modernissimo e aperto al pubblico. Questo costituisce un atto di generosità di cui nell'amministrazione comunale, ma io credo tutti i cittadini di Bergamo debbano avere gratitudine nei confronti della Fondazione Sestini, senza la quale, ripeto, non saremmo qui oggi a parlare di museo della fotografia al Chiostro di San Francesco. Dunque io vengo da Caravaggio normalmente, lo sapete tutti, e da ragazzo quando andavo a scuola a Treviglio vedevo sempre da lontano queste montagne su questa città che per me era un punto d'arrivo, bisognava arrivare a questa città. Ci sono arrivato un po' dopo e l'ho accostata con la fotografia. Per me Bergamo allora è stata una scoperta molto importante e mi ha fatto capire tante cose anche dell'Italia, dei vecchi borghi e poi la vita soprattutto della gente di allora, che non è la vita di oggi evidentemente. L'Agenzia Viaggi Norandi è nata ai primi del Novecento come ufficio di rappresentanza di compagnie di navigazione. Le fotografie che sono state salvare, perché ce ne erano molte di più, si racconta un po' la storia di questi emigranti, come vivevano, come passavano dal paesino sperduto della Bergamasca, collegato con niente, a un mondo che veramente era tutto da una sorpresa. Ho donato queste cose, questi pezzi che partono dalle antenne magiche dal 1850 in avanti fino a un cavallo secolo, perché sono le più significative, perché sono anche le primissime. Secondariamente anche perché sono strumenti molto, ma molto, molto rari, dalle biotiche, alle soffiette, a quelle di legno, anche alle antenne magiche, ho proiettori, cine proiettori, cavallo novecento. Il mio desiderio principale era quello di garantire un futuro all'archivio di mio marito, un futuro perché il suo lavoro, appassionato, intelligente, passatemi l'espressione, custodiva in sé un desiderio, una speranza, un progetto, che era quello di far sì che l'umanità si sentisse investita della responsabilità di custodire, mantenere, per poter ammirare la natura così com'era. Fausto è stato fotografo dell'Eco di Bergamo per quasi 50 anni. Era un uomo pratico, veloce, dinamico e lo portava nelle sue immagini, nella sua fotografia. Infatti era un documentarista nato. Lui diceva buona la prima, nel senso lo scatto deve essere quello buono se non sei un bravo fotografo. Per questo il fotogiornalismo era il suo campo in assoluto privilegiato. Ho deciso di donare il mio archivio alla città di Bergamo per un motivo, secondo me, molto semplice. Io ho lavorato all'inizio della mia attività di fotografo e non di fotoreporter a Bergamo. Ho fatto un libro che credo sia stato il primo libro fotografico su Bergamo nel 1977. Io avevo iniziato e avevo avuto per la verità abbastanza successo qui e quindi era giusto che le mie fotografie venissero date a questo museo. La figura di mio padre è molto importante perché riconduce alla memoria, una memoria storica che può essere sia individuale che collettiva. Io e i miei fratelli, quando il papà è venuto a mancare, abbiamo deciso di donare le sue fotografie al museo perché effettivamente è come se il museo accudisse un po' nostro padre e soprattutto la sua memoria. L'archivio fotografico Domenico Lucchetti è nato contestualmente a quella che era la sua professione di fotografo, professione che ha fatto sempre con grande passione. Non c'è una data precisa cui io possa dire il papà ha iniziato a collezionare. Sono tanti piccoli mattoncini che sono andati poi a formare un unico grande castello con il desiderio che in un futuro venisse creata una fototeca, comunque un luogo dove queste immagini potessero essere nuovamente raccolte e rese disponibili. Cioè che venissero comunque salvaguardate, conservate e poi mostrate alla città. Io sono convinto che uno dei compiti delle istituzioni è innanzitutto riconoscere quello che c'è sul territorio e quello che il territorio può dare e se possibile fare qualcosa per mettersi a disposizione. In questo caso noi avevamo una grandissima ricchezza come il Fondo Goglio che fa parte della nostra storia, della nostra identità, della nostra cultura che era semplicemente chiuso, era nostro ma non era valorizzato e questo era un peccato clamoroso. Abbiamo trovato il Museo delle Storie disponibile a prenderselo in carico, a prenderselo in cura, a inserirlo in un progetto, in una cornice più ampia che lo può valorizzare e quindi ben volentire abbiamo fatto questo comodato d'uso con l'obiettivo della valorizzazione e della conservazione. Non è davvero merito dalla provincia, sono ovviamente contento che uno degli ultimi atti da Presidente sia stato quello, ma è davvero merito del Museo delle Storie perché rendersi disponibili ad accogliere questa proprietà è un gesto di grande amore per il territorio bergamasco, di grande amore per la cultura bergamasca di cui la nostra comunità e io come Presidente della provincia posso dire soltanto grazie.